Ciao a tutti ragazzi e bentone sui miei canali, oggi siamo qua perchè mi sono reso conto di avere un patrimonio in casa e niente, queste cose sono i hollins non lo faccio nemmeno in classica scrimonia perchè non mi fa ordine e oggi ragazzi non li venderò mai se qualcuno li vuole li vede 336 euro più spedizione quindi non ve lo consiglio e niente vabbè vi li faccio vedere intanto questo è il Luke Skywalker, sono 21 tanti poi qua c'è Anakin Skywalker sempre lui e poi abbiamo Obi-Wan Kenobi molto figo e poi qua abbiamo chi è? Chewbacca? non li vedo perchè si vende poi c'è qua Yoda e niente va a morire siccome nel gioco Lego e poi c'è Ben Kenobi che è vabbè la versione vecchia che andava alla graffa e poi abbiamo C3PO che è brutto e niente vabbè non è neanche torato è una roba schifosa potete dipingere però non avrebbe senso poi abbiamo qua An Solo che sta Solo qua abbiamo Lewo che è il personaggio più orribile della storia che vorrei fucilare qua abbiamo e come si chiamava? era il tizio che stava nel mega cingolato marrone non mi ricordo di frega C3PO e R2D2 chi se lo ricorda scrivono i commenti per favore poi abbiamo qua R2D2 e qua abbiamo il personaggio che è morto Carrie Fisher ovvero la principessa ora va a morire riposa in pace no a morire poi abbiamo qua Darth Vader poi abbiamo l'imperatore colpa culo la vita è Papatin poi abbiamo qua Darth Maul che è un demonio minchia non si vede un cavolo poi c'è qua c'è Jabba the Hoot pure Giobbio come riesco di chiamarlo io Boba Fett Boba Fitto però Boba Piede come lo chiamano tutti con noi e i miei compagni uno Stormtrooper insomma un assaltatore un esploratore che per qualche ragione ha un joystick in mano va bene poi abbiamo qua il caccia pilota che cavolo si chiama? il pilota caccia T.E. insomma e niente spero che così vi sia piaciuto se così fosse lasciato un bel like iscrivetevi al canale se volete vedere più action figure questo video speciale non è speciale per niente però va bene e niente arrivederci ciao